Noi non prendiamo soldi da marzo Noi non prendiamo soldi da marzo Ah io c'ho da pagare le tasse 32 anni chi me le paga stessa età E che di affare libera la strada Che di affare libera la strada Noi di qui non ce ne andiamo Noi di qui non ce ne andiamo Noi da qui non ce ne andiamo Noi non ce ne andiamo Noi non ce ne andiamo carico Noi non ce ne andiamo Per piacere Per piacere Un attimo Andremo Ecco ci vediamo Un momento la strada Un'altra legazione No 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 E No 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 Noi di qua non ce ne andiamo, noi di qua non ce ne andiamo Emiliano! Ungere la sua proposta, non siamo italiani, noi vogliamo avere nove mesi che non avvano, nove! Preparatevi, preparatevi! La situazione è drammatica, questo è il problema. La situazione è che si viene a creare. Noi non vogliamo andare fuori su nessuno, non vogliamo parlare con lui.